e andiamo sempre l'ultimo sempre il primo queste pedane ragazzi di ricognizione gara 2 ragazzi ho cambiato per la terza volta la moto un'altra perché la prima c'erano le pedane che facevano schifo e scivolavo ho preso la seconda che me l'aveva aggiustata che la prima sarebbe stata la prima non partire l'ha aggiustata ho preso la seconda moto e andava bene ma l'hai schioppato un carter imparato e la scivolio quindi l'ho distrutta ora me l'ha data un'altra e proprio questa anche se già sto a vedere che la pedana sinistra è più piccola rispetto alla destra quindi sicuramente raga farò fatica il freno pure è bello c'ha l'avancorsa troppo lenta non ci provo raga, non va sicuro niente perché sto bello scoppiato c'ho pure la sella distrutta ma c'ho paura quando piego perché non c'ho la pedana raga non c'ho la pedana sulla sinistra che sono le curve, tutte le curve a sinistra so provano a vedere ma la leggo dura raga attenzione Bill, la marte è fortissima un crampo ci provo a pinta qua c'ho il diritto qua sbaglio qua perdo tanta questi c'è i primi due raga questi c'ho forti questa c'è più accelerazione raga esce meglio esce meglio questa raga scusate ma sono andato lungo io tanto che non mi sono mucchiato la più accelerazione cazzo cazzo se ne sono andati o vai cazzo mi recupero raga ho fatto una cattellata tosta acqua recuperare c'è prova raga qua non curate perché con l'altra c'è almeno spunto saltare più questa non la faccio più recuperare lo vedete non la son culato ora vaga ma devo solo a quel tuo ma fa un po' un'altra volta dai il stesso ostacolo non gliela fai cazzo le pedale le merda ma fa un culo sei lucido sei lucido pedale di merda finchia come saltella dai ne ho venuto per almeno marchiotto dai ma fa un culo quel lungo di merda non ci voleva ma questa volta no eh dai 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 che ce l'ho a fare minchia vuoi se a spingere più ragazzi non avevo una mano dove non spingere un cazzo scelto forte vai dai 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 3G ragazzi io la faccio a piedi vai lì 3G 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 4G 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 5G 5G 6G 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 7G 8G 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 9G 8G 9G 8G 9G 9G 10G 10G 9G 10G 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 Guarda che ora nel quarto Cazzo le piedi Dai la faccio ragazzi Dai la faccio proprio Sono al limite Visito proprio Tivo Giro come stanno a schioppare Le laviglie Attenzione Un lungo Attenzione Un lungo Un lungo Biba forse riesce a recuperare All'interno E lo passa Almeno la quarta posizione ragazzi Alle recupera Si a margine un po' di margine che l'hai è bottonato è bottonato che questo ti passa questo ti passa è bottonato tutto giù bravo che gara grande gara ragazzi quarta posizione un'altra volta mamma mia forse lo stavo vedendo più larghe è stato benissimo bulla gara bulla gara mazzarela ho schioppato io le gambe sono passato alla S qua si sono attaccato accendere un po' di fuori un'altra volta si si eh no bulla gara peccato peccato con la sbagliatura all'inizio che cazzo minchia ho le capiglie distrutte ma io sono fatto serrato non so se hai visto i tuoi lunghi che ho fatto io si l'ho visto si perché mi è stato attaccato a un certo punto non l'ho più visto l'ho fatto il photo finish si 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 mi ha buttato fuori l'ho fatto il photo finish l'ho fatto ah in tua delta di poco comunque c'era la moto che andava molto più meno prima lo sai perché ho fatto visto quel curvone la palla come lo facevo quel atto sono meno lungo questo qua usciva usciva meglio quello che vuoi ma non alla fine all'inizio al primo quarto lo passavi porca puttana se siete persi pure pure il diritto mio che siete persi forse ha ripreso ho visto lui si ha ripreso da me il diritto mi sono divertito dal ginocchio dal ginocchio in giù sono distrutto vedi c'è pure la saponetta sul gomito ma quanto l'hai pagata? bella o? bella assaduta c'è pure la produzione su qua bella però qua non sono riuscita a toccare il gomito manco io terzo io quarto 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 io quarto cazzo l'ho partito benissimo subito là ma stanno battate con loro parca puttana con sta cazzo c'era più giri hai visto come me? con la trappala sono lungo hai visto come me? hai visto come me? hai visto come me? ho visto sono andato ho dovuto a far portare qua ho perso l'anteriore ho trovato forse gli armi tutti non qua però stavo andando meglio non so l'ho cicalo metto dietro non fai paura dietro grazie ok grazie dove volete andare? dove volete andare? lui ci cambiamo al culo? e due no no lui proprio ma zietta ora è peccato è fatto un pezzato no no lui lui guarda avanti è fatto un pezzato io là si dai io andavo lungo guarda la schietta verso la cava che fiega ti stavo scherzato no no io guarda avanti gli armi è fatto un pezzato io là si dai io dai io andavo lungo guarda la schietta verso la cava che fiega ti stavo scherzato io là però mi sono soffato mi sono sofferti vai Gio settimo classificato sesto dalilo dalilo? chi è il sesto? dalilo 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 si quinto alessio bella sono arrivato tutto due quattro come ha fatto a far tutto? stefano terzo destre voglio davide chi è il quattro pronto raga mi avevo fatto arrivato sul foglio sono arrivato secondo classificato francesco sei scarso nera sei scarso sei scarso sei scarso rischiaremmo a chiammi 200 volte comunque quinto assoluto quarto in gara 1 in gara 2 grazie a te ciao vabbè raga spero quel video vi sia piaciuto ci vedremo al prossimo video scusate se non sono sempre attivo sul canale ma ho avuto problemi con il pc ultimamente lasciate un mi piace un bel commento ci vediamo al prossimo video vabbè raga buongiorno di ripetere Grazie.